Vittoria importantissima di Civitanova in un campo difficile come quello di Moda. Sì, soprattutto fuori casa, è sempre un spettacolo giocare qua, una gara molto difficile, ma abbiamo vinto, abbiamo preso tre punti molto importanti per noi perché abbiamo perso alla Zina tre punti che erano difficili e adesso abbiamo preso tre punti molto perfetti per noi perché adesso possiamo pensare alla prossima partita. In una settimana è cambiata tutta, Civitanova è completamente diversa, quella di Latina e questa qui, cosa è successo? Penso che dopo Latina abbiamo fatto una bella partita contro Trento, ritroviamo il nostro gioco dell'anno scorso ma sbagliamo ancora un po' troppo in battuta, in eccezione, possiamo pulire qualche cosa e giocare un po' meglio, penso, abbiamo visto oggi che abbiamo fatto qualche action molto belle, spettacolari e penso che possiamo fare ancora meglio, spero. Hai vinto la sfida francese con un caffè? Eh sì, è sempre un piacere ma è più importante alla fine della stagione, non adesso.